bellezza evolutiva.f attraverso francesca r a cura di vb domanda perché tutta questa fatica evolutiva michelle tutta questa bellezza evolutiva serve a conoscere che si è tutto tutti voi non sapete di essere non sapete che manifestate tutto il bene e tutto il male tutto l'io e tutto il non io dall'estremo basso della vostra evoluzione quindi nella massima espressione dell'io l'io piano piano si assottiglia fino al punto che non esiste più solo l'io ma esiste anche il non io a quel punto inizia il processo del divenire di cui voi siete a conoscenza